Ciao Samuele, sono Giovanni Di Marco della Gazzetta dello Sport, ti chiedo intanto con quale spirito ricomincia questa avventura anche in virtù dei propositi manifestati dal mister, che non è uno che si nasconde, ha detto lui vuole puntare assolutamente alla Serie A e poi ti chiedo anche dal punto di vista personale il fatto di aver cambiato, perché adesso sei un giocatore del Palermo, eri rientrato alla base il Palermo ti ha preso a titolo definitivo, abbiamo visto anche il post che hai fatto, il ringraziamento nei confronti dell'Empoli, come hai vissuto questo trasferimento? Sì, intanto buongiorno a tutti di nuovo, c'è davvero entusiasmo, sono convinto che possa esserci un progetto che potrà portarci molte soddisfazioni, sono convinto che potremo fare bene nei prossimi anni come ero convinto quando sono arrivato qua a gennaio, che Palermo potesse essere una scelta per me, personalmente parlando, molto importante anche per la mia crescita e sono convinto che, come ha detto il mister, non dobbiamo fermarci qua non dobbiamo fermarci qua perché il Palermo merita tanto, merita, come disti già a gennaio di tornare dove già è stato, per la piazza, per il calore dei tifosi e quindi sì, tutti noi andiamo dietro alle parole del mister, che è uno che crede molto in ciò che dice e quindi sono convinto che potremmo dire la nostra senz'altro all'interno anche del campionato di Serie B già da questo primo anno. Un'altra cosa al volo, ti chiedo, tu sei tornato all'Empoli e poi il Palermo ti ha preso a titolo definitivo, era una cosa che già avevate previsto o quando non ti hanno riscattato visto che c'era l'obbligo di riscatto per un attimo hai temuto che non si potesse fare e poi su quella che sarà la tua stagione, perché immagino che da parte tua ci sia anche rivalsa della Serie, adesso mi impongo in B perché l'hai avuta la tua scienza all'Empoli hai giocato non tantissimo però poi ti hanno dato via. Sì, avevo un diritto di riscatto da applicare entro una certa data, data la quale poi non è riuscita a essere rispettata col fatto che c'era di mezzo tutta la proprietà che comunque doveva cambiare queste cose qua, ma sono sempre stato fiducioso anche una volta superata tale data che ci sarebbe stato riscatto da parte del Palermo perché penso di aver dato il mio contributo e perché sentendo anche il direttore e il mister avevo diciamo in qualche modo ricambiato la fiducia che loro avevano dato a me, quindi comunque anche una volta sorpassata quella data ero tranquillo e non vedevo l'ora tra virgolette che arrivasse questo riscatto. Per quanto riguarda il campionato di B, sì, può essere considerato il primo vero campionato di Serie B che può essere visto da protagonista, anche perché quello fatto a Empoli, come hai detto te adesso, non è stato proprio un campionato giocato da protagonista, era il mio primo anno in Serie B effettivamente e diciamo per me è stato paradossalmente un po' una sfortuna essere capitato nella squadra più forte del campionato perché ci sono stati, avendo vinto da subito ci sono stati pochi esperimenti anche da parte del mister che comunque ha diciamo quasi sempre lasciato giustamente i soliti individui. Quindi non vedo l'ora di cominciare, ci toglieremo diverse soddisfazioni. Prego. Ciao sono Valerio Tripi dell'Agenzia Anza, due domande. La prima è proprio a livello personale, tu hai mancato l'ultima partita con lo spettacolo del Barbera, la festa, se ci puoi raccontare un pochino, se hai anche la voglia di dire ci potevo stare anch'io in quella serata e magari sei ripensando a quell'entrata da giallo nell'andata che poi insomma è stata vanificata il tutto dal VAR diciamo, se te ne sei un po' pentito. La seconda è a proposito del campionato di Serie B con tutte queste grandi squadre che ci saranno, se sarà un campionato affascinante, come lo definiresti? C'è la voglia di affrontare queste grandi squadre e di fare vedere a tutti che il Palermo può essere anche superiore a queste grandi squadre, nonostante sia una matricola. Sì, per quanto riguarda la squalifica nella partita più importante poi dell'anno, mi sono mangiato le mani poi praticamente tutta la settimana, vedendo poi anche effettivamente come era andata, anche perché io inizialmente entrando nel dettaglio quando ho visto la palla che inizialmente era arrivata a Brunori ho avuto anche quasi l'istinto di fermarmi, poi col fatto che il regolamento prevede lo svolgimento comunque dell'azione a quel punto ho provato a concludere l'azione sperando magari di essere in gioco e appena mi sono accorto di essere in ritardo ho provato a rannicchiare le gambe ma ormai è stato troppo tardi e sì, da quando poi ho visto l'arbitro che mi ha ammonito non ho quasi più pensato ad altro perché era una cosa che assolutamente non volevo fare quella di mancare nella partita più importante della stagione. Fortunatamente si è conclusa bene perché era ammarico se non dovesse essere andata così sarebbe stato doppio e quindi può capitare. Diciamo che alla fine la vittoria ha un po' cancellato la mia squalifica. Per quanto riguarda il campionato sì, è un campionato molto difficile, tanti addetti ai lavori l'hanno definita quasi come come una due perché le neopromosse dalla C sono squadre che hanno comunque che si rinforzeranno e faranno un organico importante e le retrocesse invece dalla A penso siano le tre favorite per per la vittoria del campionato forse ora e poi ci sono altre squadre che hanno dimostrato che comunque ogni anno danno del filo dal torcere alle altre e che bene o male vogliono sempre giocarsi l'accesso alla massima serie fino in fondo. Ciao Samuele, bentrovato. Leandro Ficarra, medical.it. Volevo chiederti se è arrivato a gennaio gol subito all'esordio al Barbera. Visioni di gioco e qualità tecnica sono abbastanza tangibili ma avevi qualche difficoltà dal punto di vista dell'intensità, del dinamismo. Poi qualche panchina, qualche sostituzione nell'intervallo. Il mister ha detto proprio a noi, c'è stato un momento in cui ho parlato con Samuele, ci siamo messi anche a guardare dei video, a comparare dei dati relativi al suo rendimento alla Carrarese e a quello con la maglia del Palermo e lui ha probabilmente capito di dover cambiare marcia per tornare ad essere un elemento imprescindibile nel mio scacchiere. Ecco, quello è stato un momento decisivo perché poi la tua stagione è totalmente cambiata e poi volevo chiederti a proposito di gol all'esordio visto che hai un ottimo tiro dalla media distanza. Se questo è un fondamentale che magari vorresti ulteriormente migliorare o vorresti anche provarci un po' di più rispetto a quanto già fai adesso. Grazie. Sì, diciamo quando sono arrivato a gennaio la mia condizione fisica non era ottimale perché venivo comunque da Empoli in cui ho passato mesi non semplici, dettati dall'infortuni che ho avuto dapprima con la pubalgia e poi con l'infortunio alla Caviglia. Quindi comunque dovevo bene o male riprendere un po' la mia condizione atletica, la mia condizione fisica e il problema alla Caviglia tra l'altro in realtà me lo sono poi portato a lungo quasi fino ad aprile. Quindi sì, diciamo il gol e comunque l'esordio e le prime partite hanno un po' nascosto tutto ciò. In realtà poi andando avanti con le seguenti mi sono accorto anch'io parlandone col mister che la condizione fisica non era ottimale e che effettivamente i numeri di cui parli e di cui ha parlato il mister erano diversi da quando avevo fatto la mia stagione a Carrara. Da lì sì, poi non l'ho vista più che altro come una bocciatura ma come uno sprono per dare di più e effettivamente poi dopo è andata sempre meglio. E poi qual'era l'altro? Il tiro alla Valerista. Sì, diciamo che preferisco, mi piace il tiro più che altro di piatto a giro anche se so che devo migliorare magari il tiro di potenza. Essendo io un ragazzo comunque cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli dove ti insegnano quasi a entrare con la palla in porta mi è sempre un po' mancato questo fondamentale e sto cercando comunque negli anni di migliorarlo e me lo dicono anche babbo, nonno che mi seguono spesso e mi dicono di provarci da fuori appena vedo la porta. Io spesso non li ho ascoltati e ora sto cercando di ascoltarli sempre di più. Quali nomi li puoi dire che li citiamo per il teo papà? Alessandro, il babbo e il nonno Claudio. Ciao, Samuele Antonio Rossi, Corriere dello Sport, intanto ben ritrovato. Poi qua parlavamo della prossima B come se fosse una 2. Come collochi il Palermo nella griglia di partenza che di sotto viene delineata ai nastri di partenza e poi una curiosità a chi ti piacerebbe affrontare la prima di campionato? Grazie. Sì, come la colloco in realtà diciamo è un po' un rebus. So quello che comunque vuole il mister so come ci alleniamo e ci alleniamo per raggiungere gli obiettivi che col mister stabiliamo insieme già da subito e non durante la stagione che sono obiettivi molto alti come ho detto da prima. Per quanto riguarda la prima di campionato è indifferente. Quasi come curiosità per vedere magari a che punto siamo vorrei trovare magari una tra le favorite per vedere appunto a che livello siamo e se effettivamente possiamo crederci fino in fondo e possiamo dire la nostra all'interno anche di questo campionato difficilissimo. Prego. Ciao Samuele, bentornato. Francesco Camuca Sportisili. A proposito del ritiro, siamo ancora ai primi giorni chiaramente ma qual è stato il primo impatto soprattutto questa diciamo novità di allenarsi in città anche ad orari diversi per evitare diciamo i picchi di caldo e anche sui carichi di lavoro visto che torni a lavorare con Baldini in estate come ti stai trovando? Grazie. No sì, il fatto che comunque l'allenamento venga svolto nel tardo pomeriggio è una scelta condivisa sia dallo staff che dal mister appunto per evitare come hai detto te i picchi di caldo che di certo non aiutano. Abbiamo, hanno fatto infatti questa scelta di fare al mattino più che altro una seduta di forza o piscina mentre il pomeriggio una seduta di due ore piene di allenamento con palla e corsa e è vero anche che effettivamente abbiamo finito un mese fa quindi comunque anche la condizione fisica atletica nel giro di pochi giorni nel giro di massimo due settimane verrà sono convinto che da parte di tutti verrà ripresa a pieno perché non c'è stato un vero e proprio stacco diciamo estivo come magari può capitare durante le stagioni e quindi sì noi comunque lavoriamo come ho detto prima per i nostri obiettivi il mister non conosce tra virgolette la stanchezza ci sprona sempre di più e quindi non vediamo l'ora tutti insieme con lo staff con il mister di cominciare questo nuovo campionato. Volevo chiederti un'altra cosa sei dell'idea come lo sono in tanti addetti ai lavori che cambiando pochissimo e finora insomma non ci sono volti nuovi se non i ritorni di Brepperetti questo possa rappresentare un vantaggio perché vi conoscete sapete quello che vuole il mister magari è andata ad affrontare squadre che invece hanno cambiato un po' di più e quindi insomma può esserci anche diciamo come obiettivo quello di partire subito forte sfruttando questo questo fattore importante. Sì sicuramente il fatto che comunque ci conosciamo già è soltanto una cosa positiva in più che possiamo avere perché ci conosciamo sia fuori dal campo ma soprattutto all'interno del campo sappiamo le caratteristiche l'un dell'altro e quindi questo può essere la nostra forza soprattutto all'inizio poi non so se comunque ci sarà da cambiare qualche pedina quello non spetta a me dirlo e comunque sono certo che chiunque arriverà verrà integrato come è sempre stato fatto subito all'interno del gioco e con le ideologie del mister. Ciao Samuel e ben ritrovato Nicolocci Luffo Mediagol.it ecco capitolo City Group che sensazioni ti dà a te in quanto appunto giovane far parte di un club così importante oggi una holding così importante anche in prospettiva futura grazie è sicuramente un privilegio io già già quando firmai comunque il diritto di riscatto a gennaio era era un un obiettivo che mi che mi era posto diciamo la serie b e già successivamente il riscatto da parte del palermo anche con la vecchia proprietà quando quando ho letto che poteva esserci la nuova trattativa con la nuova proprietà col City Group sono sono stato diciamo felice e il riscatto mi ha mi ha reso orgoglioso ancora di più perché so che adesso effettivamente c'è a tutti gli effetti un progetto che può portarci veramente lontano grazie a tutti